La morte di Italo Balbo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale è uno degli episodi meno chiari di tutto il conflitto. Un misto di caos e disinformazione in cui si perde un dettaglio particolare. Balbo viene abbattuto dalla contraiera italiana, a fuoco amico quindi, sopra i cieli di Tobruk, perché si era scambiato il suo veicolo per un mezzo inglese. La RAF era lontana ormai quel giorno, aveva già sganciato tutte le bombe che doveva sganciare. Ma una volta venuta a conoscenza del fato avverso a cui era incappato il povero Balbo, fa una cosa molto inglese. Due giorni dopo, decide di paracadutare una corona d'alloro con un biglietto di condoglianze sul campo italiano. Sapete di altri eserciti che hanno dimostrato così tanta stima nei confronti di un generale nemico? Scrivicelo nei commenti e lascia un mi piace.